Gruppo AMT, ufficiali Renault, Peugeot, Dacia e DR Motors. Cerchi l'auto che fa per te? Il gruppo AMT, con le sue sedi di Limena e Rubano, propone veicoli nuovi, veicoli commerciali a chilometro zero e auto d'epoca da sogno, oltre a servizi di assistenza e manutenzione, il tutto a prezzi concorrenziali. Un esempio? La sostituzione degli pneumatici a 19 euro e il tagliando a 99 euro, con un servizio completo e competitivo. Le officine sono dotate di apparecchiature computerizzate e personale specializzato, che consentono interventi rapidi e precisi anche il sabato, con servizi di assistenza, manutenzione e revisione, grazie ai reparti specifici dedicati ai Rapid Service. Tutti i lavori sono svolti internamente, comprese le polizie assicurative e la sostituzione dei cristalli. Nel piazzale, invece, troverai un'ampia scelta di auto occasioni, usato, selezionato e garantito da oltre 200 controlli, tra cui un attento ripristino meccanico, igienico ed estetico, grazie alla moderna carrozzeria autorizzata interna. AMT, la scelta giusta per la tua auto. AMT, la scelta giusta per la tua auto.